La prima palla è giocata dalla Milan Bella recupera di Cristiano Ronaldo sul pallone diretto a Zambrotta Lo va a prendere Gattuso Nella doppia sfida E non lo prendono E poi scivola anche lui Cristiano Ronaldo Subito è la raddoppia di Gattuso Ma in velocità Cristiano Ronaldo si infila Con i due avversari, non c'è il tocco di Gattuso Può giocare l'arbitro, allarga le braccia polemico E la portoghese, poi il terrore In appoggio di Gattuso Il pallone resta ancora in campo Ronaldo, accelera Ronaldo Doppio passo, se ne va Ronaldo Pallo sul sinistro, la chiusura Efficace in calcio d'angolo da parte di Zambrotta È stato bravo Zambrotta Anche se gli lascia un po' troppo spazio ad iniziazione Se Ronaldo prende velocità Sicuramente fiducia al portiere Soprattutto ai suoi compagni È italiano Ronaldo È già noto, ne ha già fatte di invasioni Si chiama Mario Ferri L'apertura di Xabi Alonso Ronaldo Se no, il duello con Zambrotta Immediato arriva Anche la presenza di Gattuso A raddoppiare C'è centra Ronaldo Questa è nella zona tiro Ma non arriva Ronaldinho C'è stato un allice di cadira L'apertura di Razzio di Gattuso Lo stesso Gattuso Che imposta per Ronaldinho Scalta la quattro piede del Milan È molto basso Ibrevich Magia di Ronaldinho Non ha tempo A Mourinho Che l'aveva chiesto anche a Moratti Ronaldo Nuomamente all'accelerazione Di Ronaldo Parecchi errori Nell'impostazione di gioco C'è solo Iprevich Davanti adesso per il Milan Ronaldinho Sarcavano bene I spazi stretti I giocatori del Milan Parte in riposizione centrale Ronaldo Stiamo a 23 metri Lui raccomi Parte Ronaldo Destra di Ronaldo Real Madrid in vantaggio Passata in mezzo alla barriera Che probabilmente è saltata Per togliere Per togliere spazio E in questo modo si è scomposta La palla è passata in mezzo Clamorosamente Niente da fare per Amelia Inquadrato Il gioco di Marsella Insiste la Real Madrid Momento difficile Per il Milan Parte Cristiano Ronaldo Rapidissimo L'ingresso ancora in area di rigore Palla al limite Il tiro Una diviazione Rade Il raddoppio Della Real Inizio devastante De Miato Autogol Inizio devastante Del Real Madrid Milan ha subito Ha subito il gol Ha subito la partenza Della squadra di Murigno In questo caso Anche sfortunato Perché la deviazione Sul tiro desila Completamente 14 minuti in campo C'è stato solo Il Real Madrid Attenzione a Ronaldinho Pali verticale Per in avanti Ronaldo Per il momento Non è stracotenerle La furia I giocatori della Milan Ronaldo in area di rigore E' una giusta E' una giusta E' una giusta La prima di rinforza Sedolf Zabrotta Pato Pallone nella zona di Pato Insiste nel Milan Ronaldinho Sedolf Milan per la prima volta Si affaccia Nei pressi dell'area di rigore Avversaria Ronaldinho Non passa Sedolf Ronaldinho Cosa di Ronaldinho A cioccare Ibrahimovic Di testa La spota di Ibra Pato Nonostante due gol Di vantaggio Non è soddisfatto Continua a chiedere Alla sua difesa Di restare più alta Per non dare profondità Ronaldinho Posta Ronaldinho Con l'estero Ma mette Ronaldo A sinistra Lo va a prendere in esta Ronaldo Zanatiro Si accentra Ronaldo Poi rientra sul sinistro Adesso viene attaccato Da Gattuso Che lo ferma Di forza Gattuso Quattro situazioni Veramente delicate Ronaldinho In verticale per Ibrahimovic Ronaldinho Lo attacca Xabi Alonso Questato dalla Real Osile Lo affida A Ronaldo Con Osile Che se l'ha Adesso Cristiano Ronaldo In posizione centrale Carica il destro Tutto su pieno Che non ha potta Allora Ronaldo scarica Testa Due cialoni Nella proprietà Campo Ronaldinho Fa le profondità Lo scatto di Pato La chiusura Di Marcello Cristiano Ronaldo Massello Ronaldinho Prova a far filtrare Per Pato Gattuso Lascia sfilare Ancora Cristiano Ronaldo Subito lo attacca Gattuso L'obiettivo di cercare subito Gli attaccanti Prenderseli Neanche in questo caso La sua prima idea È subito lanciare Gli attaccanti In questo momento Non riescono a trovare Il tempo Che giocava nel Barcellona Ronaldo Poi si libero Pirlo Ronaldinho Ibrahimovic Ronaldinho E' scattato Antonini L'ignora Ronaldinho La posizione di resta Tutti il pallone Verso il limite Ronaldinho Fuori gioco di Ronaldinho Da rivedere Da rivedere Tra i tre giocatori del Milan Tutti sullo stesso pallone Due in fuori gioco Ronaldinho Ronaldinho Dubbio Pirlo Ronaldinho Il pallonetto Verso Ronaldinho Buono il controllo Arriva anche Gattuso Gattuso Ronaldinho I suoi difensori Avevano capito Che dovevano rimanere Più alti Numero di Ronaldinho Sull'attacco di Xabi Alonso Bella apertura Per Zabrot Che arriva a destra Subito Zabrot A Marcello Ronaldinho Adesso più nella partita Dopo che Ha fatto la libera E lo circondano in tre Fida a Ronaldinho C'è libero A sinistra Sendo a finale A rigore Sendo Guarda sul sinistro Il tiro Andano sopra la trevesa Andano a gol per gli metti Questa è la migliore Puglienza pronta Un attacco a Marcello Lo ferma Il numero di Ronaldo Il gioco soprattutto Coinvolge più centrocampisti Con le sue giocate Sambialonso Ronaldo Guarda velocissima Nella sola posizione Marcello Porta l'arversario A Ronaldo Che può accelerare Verso l'arversario Si accentra Ronaldo Rientra sul sinistro Porta il tiro Amelio C'è l'altro Seany Ronaldo Grande risposta di Amelia Grande partita Da parte di Cristiano Ronaldo Che non perde velocità Quando porta il pallone Verso l'area avversaria Qui riesce Poi a spostarselo due volte Prima dal sinistro al destro Poi dal destro al sinistro Gran tiro Bravo Amelio Ronaldinho Il libro Cattuso a destra L'ignora Ronaldinho L'apertura Beano a se Partito di Maria Dentro per l'inserimento Di Cristiano Ronaldo E la crossa Alla centro Cattuso Il pallo Mi raggraziato In due giocatori Di Maria Nella progressione iniziale Cristiano Ronaldo Con un taglio profondissimo Mettono In imbarazzo In gravissimo imbarazzo A chiudere Arbeloa Ronaldinho Serve il movimento Di breppato Il pallone Pallonezza Prozza per Ronaldinho Parte però con un po' di ritardo Ancora Ronaldinho Parte il Real Madrid All'interno dell'area di rigore del Milan Di Maria ha voluto fare Ibraimovic Manda voto Xabi Alonso Il triangolo con Ronaldinho Il pallonezza Per Cristiano Ronaldo Ancora per Ozil Che piazza Emilia Grande pallonezza di Emilia Il Milan ancora in difficoltà È un Real Madrid Stratosferico Quando attacca Il grande Real Xabi Alonso Cristiano Ronaldo L'attende in zona Gattuso Non c'è questo è finta Ronaldo Gattuso Resta lì Dall'attacco Il primo tempo Il Real Madrid Cristiano Ronaldo Prova il tiro Coppa il negozio Ma davanti ai giocatori Che possono Contra qualsiasi Difesa Costituire Il dinamismo Del centrocampo Ha ordinato a Flaminio E Boateng Di scaldarsi Anche Robinho Altro ex Di questa sfida Randellato a Cristiano Ronaldo Che resta giù Ronaldo Marsello Così resiste al tentativo Di anticipo di Nesta Ronaldo Mediato Il marcatore di Gattuso Che lo ferma Ronaldinho Fermato subito Dall'intervento Di Xabi Alonso L'apertura di Ronaldo Perfetta per Arveloa Marsello Ronaldo Lo attacca Gattuso Lo attacca Gattuso L'unico del Milan Che vada a progressare In questo caso lo fa Con una troppa irruenza Fa i danni di Cristiano Ronaldo C'è calcio di punizione L'Areale In questo periodo di secondo tempo Che fa la partita Anche se Su ritmi inferiori Rispetto Sembiano Soccorso per Ronaldo Che prova E le attivano a distanza Per tutto L'Areale Che è andato a progressarlo I giocatori L'Areale Protestano per due motivi Perché vorrebbero Il fallo Su Cristiano Ronaldo O al più Il cazzo d'angolo Per un eventuale Tocco di Ronaldinho Si è rischiato Di farsi male Cristiano Ronaldo Ha tirato questa punizione In maniera Andiamo a Porto Campo Questa volta D'Anna Bilò Per proseguire Ronaldinho Devo dire Maurizio Non ci può arrivare Cristiano Ronaldo Ci arriva solo In un secondo momento Insiste L'Areale Rossi in aria Buon eric Tuffo E poi Gattuso Di clamorosa occasione Per Di Maria Che era davanti a Nesta Ha voluto colpire di tacco Anziché di interno destro Non arriva il pelone a Pato Ronaldinho Pirlo Fina però insiste Pirlo Ronaldinho Larga per Sedo Ibrahimovic Ronaldinho Consiglio del Diamantino Sale Arbeloa Ancora Ronaldo Prova a prendere velocità Poi vede il lembore Ronaldo Ronaldinho Attacca lo spazio Antonini Che porta in avversario Ronaldinho Che può accelerare Poi si ferma Antonini Ronaldinho Il cross C'era solo l'Ibrahim Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Si scontra con Zabrotta L'intervento della terzina E palloso Dalpesta probabilmente Se giusto Il calcio di punizione Ronaldinho Sedo Cristiano Ronaldo In possesso del pallone Marsello Iguain Cristiano Ronaldo Scontra con Pirlo L'intervento è falloso Calcio di punizione Pirlo protesta E questa è la posizione Ronaldo Molto più di quella Che ha originato Il gol del 1-0 L'arbitro è lì a due metri Siamo a 35 metri Dalla porta Parte Ronaldo Sua bandina Ronaldinho E libero Sedo Per Ronaldinho Subito aggredito Non è riuscito Ha portato proprio la partita Che lancio lungo Per non perdere la palla A centrocampo D'altra parte Un giocatore Della sua Della sua classe Della sua bravura Qualche Qualche colpo Lo subisce Per forza Ancora Ronaldo Si libera di Zambrotto Cioè Il raddoppio di Pirlo Arriva Boateng Ronaldo Accenna a vendicarsi E rischia la punizione Calcio di punizione Per il Milan Di San Pialosso Applausi Della Benameo Di San Ronaldo Va via a Nesta Lo insegue Boateng Accelera Ronaldo Scarica bene Su Osil Con il sinistro Osil Pala sul secondo palo Chiude Antonini Qua si fa anticipare Ibrahimovic Di tacco Il pallone centrale Per Ronaldinho Di ritorno Ibrahimovic E per l'onore Della semi-professional Della Benameo Dopo quattro passi Con la media Della faccia Il donato Si era buona Con il senere evidente Esce tra i fischi Della Benameo Lo abbraccia Mourinho Accelera Zabrotta Accelera Masselo Va in percussione Ronaldo Altra pallagola Per il Real Una riuscita Di impattarla bene D'interno destro Qui si guardano Bonera Pirlo Nesta Difensori centrali Ma questi inserimenti A grande velocità Da parte Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Lo chiude Zabrotta Lo chiude bene Ma le carcelanze Va a posizionarsi Se ne presse la barriera del Milan Il portiere in quel caso Non vede niente Il pallone arriva da vicino Una velocità Ci sono tre Della Real A fare da schermo La ricorsa breve Parte Ronaldo Proprio addosso E la porta è buona La mano va fuori Sono stati i giocatori Della Real Opporsi alla posizione Di Ronaldo Ronaldo vuole un fallo Di mano Vediamo Magari il replay Ci chiarisce Chi ha respinto È una zola Forse il pallone Il terreno ha tradito Ibra Perché Un errore del genere Se è inammissibile Questo è il piano Su un ruolo La situazione Il personale potente Ma in è fermato Entrato Di Arra La sana Di Arra Al posto di Osil Ronaldo Imprendibile Per il punto del vino Anche se i momenti Di domenzi Stasera non sono piaciuti Ma la sua prestazione È stata inestremita L'ultimo minuto Era stato due volte pericoloso Adesso preciprova Ronaldo Ritaccio Ronaldo Ritaccio 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 Centrocampio E più in fondo Ma hanno fatto Veramente una gran partita Sotto questo aspetto Hanno sempre aiutato I difensori Ritaccio 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 Ritaccio